Racconta cosa resta di un amore quando diventa un ricordo, cosa resta di una terra quando devi abbandonarla, cosa resta di una vita quando si arriva al finale, è l'anchise firmato da Cesar Brì. Un lavoro di fortissimo impatto emotivo, lacrime e sorrisi tra il pubblico a vedersi rispecchiati nelle scene che accadono negli spazi antichi di Veleia. L'anchise dell'intenso attore, drammaturgo e regista di origine argentina nasce da una scintilla gettata dalla direttrice artistica del Festival di Teatro Antico Paola Pedrazzini che l'ho invitato a lavorare sulle neide perché ne è il profugo, lo straniero, temi cari a Brì. Lui rileggendo l'opera virgiliana posa gli occhi sul vecchio anchise, forse perché ci si identifica ma non solo e affrodite a affascinarlo sarà lei dietro alle idee eterna che affiderà l'elogio della mortalità e della fragilità. Al Festival di Veleia sono stati tre giorni di un viaggio straordinario in cui gli spettatori, divisi in piccoli gruppi in sei repliche, hanno seguito Anchise nel suo viaggio, in fuga da Troia distrutta, al seguito del figlio Nea, ma lo hanno seguito soprattutto nel viaggio della vita, perché siamo un'arofaghi, tutti, sempre.